Oggi vedremo qual è il mio massimale di military press Tra l'altro non faccio military press da ben due anni E l'ultima volta che l'ho fatta mi sono infortunato male alla spalla Quindi speriamo non succeda la stessa cosa 80 kg i ragazzi iniziano a pesare Più che altro non lo faccio da due anni Però noi ce la facciamo perché i pesi sono fake 80 kg non so se riuscirò a farli Easy Eh questi già pesavano 90 kg il tuo massimale di panca piana Vediamo di infortunarci di nuovo Il tuo massimale di panca piana Male male ragazzi mi sa che devo iniziare a doparmi Allora dato che i 90 kg l'ho falliti Mi tengo i miei umilissimo 80 kg di military press Sinceramente speravo di arrivare a 100 kg Però non avendo la mano allenata dai ci sta Quindi da domani si inizia il ciclo